Oggi noi abbiamo presentato i dati di questi ultimi mesi sulla guida nella nostra città. Purtroppo sono dati terribili, agghiaccianti. Esordisce così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, i numeri a cui fa riferimento riguardano le violazioni sui limiti di velocità, i passaggi con il semaforo rosso, la guida in stato di ebrezza e l'uso del cellulare, registrate in città. Più di 200 i casi di persone che hanno viaggiato a più di 120 km orari, in particolare sui viali. Ma i dati dimostrano che c'è, anche chi sfreccia a 160 km orari in città. Toleranza zero, dice Nardella. Noi abbiamo implementato il numero di autovelox per controllare questi eccessi di velocità e peraltro dobbiamo anche rispettare le prescrizioni che ci vengono dall'ASL e dalle altre autorità, perché i costi sociali, sanitari legati a questi incidenti sono elevatissimi. Il 2022 rischia di essere un anno da bollino rosso per la sicurezza stradale. Nei primi sei mesi, dice il sindaco, siamo già a sei morti e a 1200 feriti. I controlli della Polizia Municipale verranno intensificati. Quando c'è in gioco la vita non si scherza. Per questo lanceremo un'ennesima campagna di comunicazione e di sensibilizzazione, una campagna che dice guida distratta, vita distrutta, perché non possiamo sopportare la responsabilità di non aver fatto tutto quello che potevamo fare per evitare che qualche persona possa morire o addirittura rimanere appunto menomato per tutta la vita. Insomma non possiamo accettare questa situazione. Grazie.